La vicenda societaria dell'Akragas, che tiene banco ormai dallo scorso 20 novembre, con il passo indietro di Marcello Giavarini e le annunciate dimissioni del presidente Silvio Alessi, sembra avere subito un'accelerata. E notizia di pochi giorni fa, dopo un dire in molla durato sei mesi, la brusca frenata e di conseguenza l'interruzione della trattativa che avrebbe portato l'imprenditore Franco Proto a rilevare le quote della CR Messina. I peloritani, tramite il presidente Natale Straguzzi, lo scorso 2 gennaio hanno di fatti declinato l'offerta di Proto, accettandone una seconda da parte di un imprenditore laziale e che dovrebbe coinvolgere anche il dirigente agrigentino ed ex presidente del Ribera Calcio, Ezio Ruvolo. Sfumata la possibilità di rilevare il Messina, sono stati avviati i primi contatti con i vertici della dirigenza dell'Akragas. Un primo contatto è avvenuto la scorsa settimana, ma in maniera del tutto superficiale. Tra ieri ed oggi invece ci dovrebbe essere un primo reale incontro tra il presidente Silvio Alessi, il direttore generale Tirri e appunto Franco Proto. L'idea, almeno secondo prima in descrizioni, sarebbe quella di anzitutto salvare l'Akragas, immettendo da subito importanti capitali per dare ossigeno alla società e permetterle di terminare la stagione senza alcun patema d'animo e soprattutto operare sul mercato tentando una salvezza ancora del tutto possibile. Appare evidente che per poter effettuare tali ragionamenti, la trattativa intavolata dovrebbe viaggiare alla velocità della luce e dare dunque una concreta scienza all'Akragas di permanenza in terza serie. Il tempo è denaro e la squadra grigentina, che si è ritrovata questa settimana sul campo dopo le vacanze natalizie, ha cominciato la preparazione in vista dello scontro salvezza contro la regina, senza il capitano Daniele Marino, ceduto Alfondi, senza Francesco Salandria, accasatosi al Matera, e con tantissime trattative di mercato che vedono al centro altri giocatori biancazzurri, Zanini e Gomez su tutti. La volontà di chiudere la trattativa è presente in ambedue le parti. La dirigenza grigentina in primis, che per bocca del presidente Lessi aveva chiaramente detto di non essere in grado da solo di terminare la stagione. Anche Franco Proto sembra intenzionato a fare sul serio. Il primo passo sarà dunque quello di visionare i conti della società.